Lasciate like altrimenti verrete espulsi a scuola e diteci qua sotto nei commenti qual è stato il gol più bello della serie A fino ad ora Bella ragazzi carichi come non mai da FuseGamer Oggi ragazzi siamo qui con un minicredibile perché oggi ragazzi siamo sul campo da calcio con i ragazzi più belli al mondo Ciao ragazzi Ragazzi oggi siamo qui per ric... Potrei ma non lo faccio Ricreamo i migliori gol della serie A fino ad ora Ed oggi ragazzi siamo qui con quasi tutti gli elites Quasi Antonio il portierone Che non dovrà fare nessuna parata perché già mai ci mi schifo quindi Per favore Antonio Fratino Operogli e lei con Luca Patrizio Morellato Matteo Robert E il mitico Il più forte Simone Cris Bella ragazzi Non ci mettiamo in chiacchiere tantissimi like per altri video del genere Ma adesso andiamo dentro a vedere quali saranno i gol Andiamo Aiu Eccoci qua Si tratta di un giocatore della Juventus Di Maria cross Rabiot E racconto la perentina Aiu chi lo vuole fare? Io perché sono alto Il cross da parte di Di Maria col mancino Rabiot È proprio Rabiot Non c'è la testa da Lo fa manatura scusa Mancino di Di Maria cross in mezzo per Rabiot Attenzione Non si sa se è gol Ed è gol Rabiot Unice così La casa è tana 1-0 Juventus Questo è buono Non viene mai più eh Non viene mai più Perfetto Rossano con un ghi Secondo gol Lo conoscete molto bene i tifosi del Napoli Mario Rui Asis per Kvara Kvara la stoppa di sinistro Cross di sinistro Stop di petto Ginocchio Vai Simo Attenzione Mario Rui La palla dentro perché vale a scheria La palla dentro la grossa Attenzione La palla per Rossi Man Ginocchio Sinistro Che parata Però la palla di sinistro Ci sta la grande Antonio Antonio via Attenzione Mario Rui La palla dentro perché vale a scheria Mettila bene al centro Vai Oti Bus 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 Fu Buono Can Senora Vabbè Come fai Come fai Come fai Protokano Secondo me Puoi farlo meglio Il cross al centro Però ci pende Stop di petto Bus 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 Cubano Tu maschero bene secondo paolo e non altro qui abbiamo un gol forse credo il più bello della serie a attualmente o che re che o l'inter a giro cremonese quindi non c'è nessun di posto di quella squadra che cosa non volete fare a tema secondo me lo fai meglio tu ci proviamo entrambi cambiate le regole attenzione o scusate ok re che voglio provare tiro a giro madonna incredibile signori ma si di e short stop esci dall'area bravo eccolo eccolo tentativo l'ho detto non è a fin di palo però vedi proprio no no vuoi farlo dove ha fatto vediamo se la prima tentativa l'ha fatto ma la mummi che l'hai fatto tu ancora arrivati a questo punto del video dite se è stato il bello più il primo gol di matteo o questo di home ok allora adesso abbiamo un gol della roma quindi attenzione pat e charawi scavetto bello ragazzi qua dovrà essere bravo a destra lo devi fare dovrà essere anche bravo il portiere a farsi saltare e quindi va tu te la senti si se la senti se la senti è destra naturale è destra naturale è destra naturale simile del charawi passiamo al prossimo scusa prova a farlo così vai un attimo a commentare attenzione vogliamo fare più stelle su scorre quindi si ripete l'azione attenzione zaleschiano attenzione volpato per il charawi una vita incredibile perfetto attenzione a questo è rilà cross di danali e girù di mancino lo devi fare molto difficile di mancino potresti parlare anche di destra vabbè aspettiamo il video di esatto quindi è ridotto specchio tonali il cross per girù mi sono collegato male tonali il cross per girù wow era bella questa tonali il cross per girù non mi piace nessuno ma non me l'ho fatta proprio vieni qua si è bel gol però non era come lo dicevano il cross per girù no per girù vabbè l'ultimo 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 ti prego l'ultimo che scassato qua girù non mi piace nessuno che lo faccia è una foto proprio niente io mi sono toccato questo forse è anche uno dei più difficili oh i gol di fagioli con lecce i gol di fagioli con lecce però bello il palo gollo che bisogna prendere anche il palo quindi luca te la senti si per forza io ti faccio l'assisman si ciac si gira e allora attenzione Eiling Junior punta l'uomo dopo passo vallo salta la palla dentro c'è fagioli stop Nicolò oltre la testa la palla gi- cosa non ho capito c'è la palla dentro per fagioli stop si gira tiro a giro però 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 giallo deve farti una doccia che puzzi vai 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 va bene non ce l'ha fatta eh vabbè oh cazzo basta bestemmia porca quindi luca non ci è riuscito effettivamente era difficile non abbiamo tempo da perdere quindi passiamo al prossimo goal eccoci qua con Nicolo Barella al volo un gol assurdo contro la cremonese ragazzi questo è ad inizio campionato se non erro bellissimo gol ehm io penso che tu ce la buffa frate quella complicata si guarda che mai hai m2 si questo gol lo voglio fare pure io anche perchè non ho fatto niente il cross tiro al volo di parello andrea forse è meglio se fai l'arbitro ma che faccio i nostri credi io non ho ancora cacciato ma ti faccio vedere cross di d'ambrosio si palla dentro parella uuuu dicono mamma proprio lui allora vai un finito questo video penso servito più distopico dinamico caledoscopico ragazzi mi raccomando lasciate un bel mi piace un bel commento iscrivetevi al canale e ringrazio veramente tutti i ragazzuoli quindi ciao 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 ciao